Ospiti, immagini, rubriche e soprattutto tanti gol. E questa è la formula vincente di Zona Calcio e la trasmissione sportiva di Tele Libertà in onda questa sera, come ogni lunedì alle 21. Insieme alla conduttrice Nicoletta Marenghi saranno presenti gli esperti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marcello Tassi. Ospiti in studio il River Garo e una rappresentanza del Pittolo. Questa sera torna anche la rubrica dedicata alle donne del calcio curata da Marzia Foletti, che vedrà come protagonista Sofia Varilli, fidanzata di Francesco Volpe. La Marcor del Piacenza sarà invece affidato a Stefano Bobo Maccoppi, ovviamente assieme a Gianni Rubini. Vedremo le immagini di Cuneo Pro Piacenza, Prosesto Piacenza, Fiorenzuola Pergolettese, Nibiano Agazzanese, Alsenese Sporting Fiorenzuola, Pittolo River Garo e San Filippo Neri Gossolengo. Tra gli ospiti della serata anche Julien Rantier, francese, attaccante del Pro, il capitano del Piacenza Luca Matteassi e il centrocampista del Fiorenzuola Andrea Petrelli. Per contattare la trasmissione sms al 335 74 22 274, whatsapp al 335 54 38 909, email zona calcio chiocciolateleliberta.tv, twitter chiocciolateleliberta, hashtag zona calciolive e infine facebook teleliberta a Piacenza. Le repliche andranno in onda domani alle 9 alle 17, mercoledì alle 11, giovedì alle 10.45 alle 23, venerdì alle 9.30 e sabato alle 17.